Diretto con gli ascoltatori, diamo il bentornato negli studi di Temporadio a Basilio Rodella, vice sindaco di Montichiari. Vice sindaco bentornato, grazie a voi per l'invito. A proposito di inviti, lo facciamo con gli ascoltatori, invitiamo ovviamente tutti a partecipare, ricordiamo le coordinate per interagire con noi, numero per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105, se volete chiamarci fatelo 0376 63 17 09, la mail è diretta a chiocciolatemporadio.it, vi invitiamo a usare anche la pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio sulla quale siamo in streaming. Allora, lei assessore e condelega la cultura, tra l'altro, cultura che è una caratteristica molto importante di questa amministrazione Monteclarense, diciamo che è proprio una delle cose sulle quali puntate maggiormente. Devo dire che è un cavallo di battaglia che è in primo piano per la nostra amministrazione ma che anche le amministrazioni precedenti hanno fatto la loro parte. Devo dire che la cura che abbiamo messo in campo sui settori culturali sta dando i suoi frutti. Se guardiamo ai dati di affluenza alle strutture museali dal 2014 al 2016 vediamo che dal 2014 in cui abbiamo avuto 24.865 accessi, siamo passati dal 2016 con 31.034 accessi, vuol dire quasi 7.000 accessi in più, ovvero più del 20%. Quindi questo è un primo segno che le misure che abbiamo messo in campo stanno dando i loro frutti. Ecco, ma esiste una ricetta segreta per questo? Cioè come avete fatto a ottenerlo? Anche perché c'è il discorso del cosiddetto nemo profeta in patria, cioè io stesso per esempio abito in, non ho Monticari, in un altro comune che ha dei musei e francamente non tutti li ho visitati. A me ce li ho sempre lì, quindi dico sì, un giorno andrò a vederli. Devo dire che noi partiamo con un handicap spaventoso nel senso che prima che arrivasse l'amministrazione Fraccaro il settore cultura aveva a disposizione 200.000 euro forniti annualmente da un discaricatore. All'avvento di Fraccaro come sindaco questi soldi non sono più arrivati e noi stiamo facendo cose io credo anche migliori, conservando il buono che abbiamo trovato e inserendo iniziative nuove, nuovissime di altissimo livello senza questi fondi e facendo leva sulla creatività, sulla capacità di spendere in maniera virtuosa e in sostanza mettendo a frutto al 1000% le risorse che abbiamo. Per cui esiste una ricetta, esiste una ricetta o è un segreto? No, non esiste nessuna ricetta, significa valorizzare al massimo le risorse interne che ci sono e devo dire che la Montichiari Multiservizi con la sezione Montichiari Musei aveva e ha del personale di altissimo livello, significa che la Giunta mette in campo tutta una serie di iniziative e quindi è qui che mi riferisco alla questione di creatività e per cui tutto questo è unito alla capacità di saper spendere tenendo conto che i tempi sono cambiati, che i soldi non ci sono e che quindi vanno spesi al meglio dai risultati che stiamo ottenendo. Quindi appunto ottimizzando, ma facendo veramente perché il termine ottimizzazione negli ultimi decenni era stato utilizzato in maniera errata quando si riducevano praticamente le risorse, invece voi proprio le usate nel modo migliore. Noi in sostanza rispetto all'amministrazione precedente sul settore culturale siamo partiti come ho detto prima con meno 200 mila, in più abbiamo ridotto il personale con un ulteriore risparmio di 60 mila euro all'anno e facendo molto di più, quindi devo dire che proprio questo va sulla qualità degli interventi fatti. In questi giorni, sabato, abbiamo inaugurato una mostra di livello nazionale al Museo Lecchi su Basiletti, una mostra veramente che ci è invidiata da più parti e che ha avuto un risalto sulla stampa di primissimo livello, ne ha parlato il Corriere della Sera con mezza pagina, il giornale di Brescia con una pagina intera, Brescia Oggi e tutti gli altri organi di stampa hanno dato il massimo risalto, proprio perché è la creatività che viene messa in campo. In sostanza Basiletti è un pittore bresciano dell'Ottocento, nato alla fine del Settecento e vissuto fino a metà dell'Ottocento e che nessuno aveva mai valorizzato come ha fatto il Museo Lecchi di Montichiari, valorizzato con una mostra di livello nazionale che costerà alla fine meno di 15.000 euro. Questi sono i veri miracoli dell'amministrazione, fraccaro. Davvero e tra l'altro anche con una riscoperta, se mi permette, di un autore locale, di un artista locale, forse non c'è un po' troppo poca attenzione nei confronti. Le faccio un esempio, quando da studente all'università, una volta andai a visitare il Castello Sforzesco a Milano, dentro la Pinacoteca, rimasi stupito da quanti pittori bresciani occupavano un terzo della Pinacoteca, tra Foppa eccetera. Ecco, mi disse ma perché poi quando arrivo a casa invece non ne sento mai parlare? Basiletti, che è bresciano Doc, peraltro poliedrico come personalità, a torto è considerato un artista locale, nel senso che lui ha frequentato in più riprese gli ambienti artistici di Roma, ha fatto un ritratto a Canova e quindi lo conosceva molto bene e così via, per cui è un pittore di Brescia ma di grandissimo e altissimo profilo, solo che è dimenticato che Montichiari gli ha dedicato due mostre, una sui ritratti l'anno scorso e quella straordinaria che è in corso fino a luglio sul paesaggio. Certo, quindi appunto, tra l'altro, due tappe fondamentali proprio dell'arte. Ci sono altre mostre? Adesso non le voglio rubare tempo. Io ho portato questi fogli che sono l'organizzazione di 70 eventi che verranno messi in campo dal 22 aprile al 31 maggio. Perché 22 aprile e non si parte dal maggio a Monteclarense come solito? Perché il 23 aprile è il compleanno del Comune di Montichiari, data in cui festeggeremo gli 850 anni della nascita del Comune di Montichiari. Questo perché è stato ritrovato un documento 1167, 23 aprile appunto, in cui i conti e i feudatari dell'epoca danno agli homines di Montechiaro alcuni privilegi e alcune funzioni per gestire proprietà e le terre dell'epoca. Per cui, ecco, quest'anno, il maggio Monteclarense partirà il 22 di aprile e terminerà il 31 di maggio con oltre 70 eventi. Partirà il 22 di aprile con una mostra alla Galleria Civica che presenterà l'editoria Monteclarense. Cosa significa? Ci siamo spesso chiesti chi ha scritto di Montichiari, quanto ha scritto di Montichiari. Abbiamo fatto una ricerca molto approfondita e qui ringrazio i vari storici monteclarenzi e siamo pervenuti ad un primo censimento che ci dice che al momento ci sono 330 titoli, 330 pubblicazioni, libri che parlano di Montichiari. Questi li abbiamo scovati all'Archivio di Stato, alla Querignana, alla Fondazione Micheletti, alla Ugo D'Acomo e molte altre realtà pubbliche e private che ci hanno messo a disposizione questi titoli. Questo perché? Perché vogliamo che lo studio del territorio sia fatto da parte dei cittadini, degli studenti e così via, sempre più in modo approfondito e la fornitura di un catalogo delle opere fatte in passato credo che sia fondamentale per poter fare ricerca in modo serio. Per cui è stato stampato un catalogo che naturalmente appena uscito sarà subito vecchio perché ci immaginiamo che chi scorrerà i titoli presentati dirà ma io ne ho a caso un altro, io ne ho a caso un altro ancora. Per cui questo catalogo sarà messo online e continuamente aggiornato a seconda delle segnalazioni e dei ritrovamenti che faremo nelle biblioteche locali, nazionali ed internazionali. Quindi sì, avranno sempre maggiori informazioni, benissimo. Un altro evento, Assessore, prima di andare in pausa di cui parliamo? Ma il 22 si apre questa mostra e poi il 23, il 22 sera scusate, al Teatro Bonoris ci sarà un concerto fatto e proposto dalla Pellegrino da Montechiaro e a seguire la presentazione di tre titoli. Uno sulle bellezze di Montechiari, il secondo il catalogo dell'editoria e il terzo un documento presentato in 16 pagine che riproduce fedelmente la pergamena che abbiamo trovato all'archivio di Stato con la traduzione e un commento che saranno distribuiti a tutti gli alunni delle elementari e delle medie presenti a Montechiari. Benissimo. Fermiamoci un attimino con Basilio Rodella, vice sindaco del comune di Montechiari. Ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo subito. Sto dialogando con Basilio Rodella, vice sindaco del comune di Montechiari. Questa è la seconda parte di filo diretto con gli ascoltatori. Ci sono anche diversi messaggi che adesso andremo a leggere. Saluto l'ascoltatore o ascoltatrice anche che ha mandato un messaggio per il candidato sindaco Volpi. Non c'è per oggi. Comunque lo salutiamo ad ogni modo. L'ascoltatore me lo tengo per quando arriva. Allora, Assessore Basilio Rodella, le manifestazioni come quella ciclistica sono belle, portano visitatori ma rompono un po' le scatole ai residenti, dice un ascoltatore. Avete effettivamente fatto una bella manifestazione? Ringrazio l'ascoltatrice che mi pone questa domanda. In effetti il centro storico è spesso teatro di manifestazioni di vario tipo e gli abitanti, i cittadini che abitano in centro hanno spesso delle difficoltà da affrontare per questo. Ma è il rovescio della medaglia di abitare in centro. Ci sono le comodità di abitare in centro e ci sono le difficoltà di abitare in centro. Così come quelli che abitano in periferia hanno i problemi di trasporto e non hanno tutte le opportunità di chi abita in centro, così gli abitanti del centro hanno queste altre problematiche. Occorre tanta pazienza, molto buon senso e le cose possono coabitare e coesistere senza problemi. Esatto. C'è anche il prestigio, il valore della casa, tutta una serie di cose e compreso il fatto che non si va al supermercato perché magari devi comprare una birra. Vai in cartoleria. Però nelle periferie e le cartolerie tante volte non ci sono. Chi abita in periferia non ha i problemi di chi abita in centro ma non ha neanche le opportunità. Certo, per cui proprio c'è un dritto e c'è un rovescio come ha detto l'assessore. Allora, saluto a Morris, il quale dice il vice sindaco, dicono che si alternerà con Fraccaro uno per uno, così regnerete per sempre. Io lo spero comunque. La nostra è una squadra molto affiatata, ripeto, una squadra che ha in Mario Fraccaro un allenatore e un direttore d'orchestra molto valido. Io credo che continuerà con queste modalità. Quindi non ci sono problemi. Benissimo. Altro messaggio. Il buongiorno del Castello è bello ma non lo conosce nessuno. Questo è un altro problema, appunto ne accennavamo prima, anche del nemoprofetto in patria, dicevo. Cioè guardate che specialmente i residenti in un posto sono quelli che vanno meno a visitare. È il lavoro che stiamo facendo e i dati che ho espresso prima, ovvero nel 2014 il sistema museale che comprende anche il castello è stato visitato da 24.865 persone. Il 2016 ne ha viste 31.000 erotti, quasi 7.000 in più. Vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti. Benissimo. Quindi questa è una grandissima cosa. E poi, dunque, vediamo, un altro messaggio. Novità sulla fiera. Così cambiamo argomento. Saluto chi ha mandato il messaggio. Prosegue il boicottaggio di Brescia. Addirittura lo definisce il boicottaggio. Questa, quanto esprime l'ascoltatore, è frutto di alcuni articoli apparsi da millantatori, organizzatori di fiere, che si sono proposti per rilanciare la fiera di Brescia. Ripeto il termine, millantatori. Abbiamo, pochi giorni fa, avuto un incontro con Giovanna Prandini, la presidente di ProBrixia, che ha in gestione la struttura di via Caprera, l'ex fiera di Brescia, e ci ha confermato che non c'è nessun boicottaggio da parte della fiera di Brescia nei confronti di Montichiari, anzi, prosegue la collaborazione. E la domanda dell'ascoltatrice giunge a proposito perché mi consente di annunciare che entro metà maggio la fiera di Montichiari firmerà un accordo di collaborazione, una sorta di società, partnership, con le fiere di Bergamo e Cremone in un primo momento, e in seconda battuta con la struttura polivalente di Brescia. Per cui si sta creando un sistema fieristico della Lombardia orientale. Per cui, sì, proprio da contraltare, non perché si faccia la guerra a Milano, ma perché obiettivamente è assurdo che uno si debba fare cosa sono Milano 120 km o meno, più o meno. Riprendendo la domanda dell'ascoltatrice, mi sembra, sì, rilevo che dopo 25 anni di guerre, tre mesi fa, è stato siglato proprio un'intesa tra Montichiari e Brescia. Per cui Montichiari, che adesso si chiama Centrofiera del Garda, vuole essere la vetrina espositiva di tutta l'economia bresciana in primis, e, in seconda battuta, della Lombardia orientale. Certo. Poi c'è anche il discorso dell'aeroporto. Abbiamo letto che adesso diventa un'aeroporto importante a livello merci, però intanto... Ma su questo argomento si stanno spendendo fiumi di inchiostro e c'è tutto il contrario di tutto. Può darsi che si muova qualcosa, ma non vorrei aggiungere altre parole alle parole che già sono state dette. Preferirei aspettare qualche fatto. È probabile che qualche fatto si materializzi nei prossimi mesi. Per cui, appunto, si sa da cosa nasce cosa, fondamentalmente. C'è Mara, saluto, magari il messaggio lo tengo anche per la sua collega Soldini, visto che lo dice. Io ho poca fiducia nei giovani, mi sembrano smidollati a parte la Soldini, quindi lo tengo anche per la sua collega. Ma noi, devo dire che abbiamo una bella squadra di giovani, la Soldini è uno di questi, la Beatrice Morandi è un'altra, l'assessora all'urbanistica, è un'altra giovane che sta dimostrando grandi potenzialità e sta lavorando benissimo, ma dietro queste due giovani donne abbiamo una schiera di ragazzi e ragazze che fanno sperare bene per il futuro della città di Montichiari. E' appunto arrivata la mail, il rapporto è dimenticato da tutti, allora facciamo altre discariche, tanto non cambia niente. Cosa va, un po' disfattista chi ha scritto? Devo dire che non è il mio settore e è la Soldini che affronterà questo argomento e magari anche il sindaco domani. Devo dire che al momento quanto promesso da noi nella nostra campagna elettorale, cioè discariche zero, è una promessa che è mantenuta. Devo dire anche che entro due anni il gruppo sistema che è l'ultima discarica, che probabilmente finirà i suoi conferimenti, finirà entro due anni, due anni e mezzo. Questa è una notizia molto positiva, naturalmente. Dobbiamo far conoscere ai cittadini di Monteclarenza che finiranno anche i conferimenti, cioè i contributi economici che sono sempre arrivati dalle discariche, contributi economici che sono arrivati a fiumi nei quindici anni precedenti e che si stanno esaurendo. Attualmente il contributo che arriva annualmente nelle casse comunali dal gruppo sistema, l'ultima discarica che finirà appunto i suoi conferimenti, è tra il milione e mezzo e i due milioni di euro annui. Tra due anni finiscono. Quindi Montichiari si dovrà attrezzare per far fronte a tutte queste problematiche senza questi introiti. E devo dire che ci siamo allenati bene come amministrazione comunale, nel senso che l'amministrazione precedente ha sempre goduto di contributi finanziari delle discariche in maniera massiccia e con contributi straordinari sullo sport e sulla cultura pari a 700 mila euro. 500 mila per lo sport e 200 mila come già accennato prima sulla cultura. Ecco, noi stiamo facendo grandi cose nello sport e grandi cose nella cultura senza questi soldi qui. Noi contiamo di poter fare lo stesso lavoro, magari inventandoci altre situazioni, cercando di dare spazio alla creatività per far fronte anche all'ammanco nei conti pubblici che ci sarà quando finirà l'ultima discarica. Esatto, tra l'altro ricordiamo che l'abbiamo raccontato oggi che il vostro velodomo ospiterà i campionati mondiali, quindi complimenti, giusto? Sì, è una bella notizia. Prima che arrivino i mondiali dovremo affrontare alcune situazioni relative ad alcune criticità che sono presenti nella struttura, ma è una bella notizia, questa è una bella notizia. Assolutamente. Allora, vorrei leggere una mail di Betti, dice che non sarebbe meglio far portare i pasti da casa, i pasti per l'asilo, adesso a parte questo, però approfittiamo di Betti, rispondiamo a Betti e poi magari parliamo anche dell'aspetto sociale che è estremamente importante proprio per Montichiari, per questa amministrazione. Allora, l'aspetto sociale ed educativo per questa amministrazione è importantissimo, ne parlerà comunque domani il sindaco Mario Fraccaro perché le sono le sue deleghe specifiche. Ricordo che a Montichiari i contributi e gli interventi a favore delle persone in difficoltà sono aumentati in maniera significativa ed importante rispetto al passato. Per quanto riguarda questa questione specifica delle refezioni e delle mense dei bambini chiedo proprio che se ne parli domani con il sindaco perché è sua specifica delega. Però avete una casa albergo anche per esempio che è estremamente importante. Sì, una casa albergo che sta lavorando molto bene, siamo molto contenti del CDA che si è insediato con la nostra amministrazione, le rette sono rimaste invariate nonostante la crescita dei costi, sono state fatte moltissime migliorie dalla lavanderia al raffrescamento degli ambienti, alla qualità delle pulizie, alla qualità degli interventi presso gli ospiti, alla presenza dei medici 24 ore su 24 quando prima non c'era e così via, moltissimi, moltissimi interventi. Ma non è sufficiente, siamo soddisfatti di quanto fatto ma vorremmo poter fare di più per cui stiamo lavorando per poter migliorare questi aspetti. Benissimo, siamo quasi saluti, abbiamo letto quasi tutti i messaggi, ce n'è ancora uno. Assessore, bravi tutti per quanto riguarda l'amministrazione, quindi un complimento che le arriva. Ce ne sarebbe anche uno di Omar che abbiamo letto durante la pausa, io glielo leggo però mi ha detto appunto, ne parlo col sindaco domani magari. Ma vediamo di cosa era. E dice, educazione sessuale per ragazzi e ragazze con magari visita medica singola, con rispetto, dottore per i maschi, dottoressa per le femmine, si potrebbe organizzare, sa quanti non fanno mai vedere, non sanno niente. Beh è un consiglio che si può prendere in considerazione, assolutamente sì. In considerazione. Ci sarebbe anche, non è di sua competenza, sono stato a Mestre, ho visto le monorotaie, potremmo sostituire gli autobus col tempo? Anche questo va tutto bene, il libro dei sogni è un libro che non ha più pagine, o meglio, ne ha all'infinito. I sogni vanno poi calati nella realtà e vanno gestiti con le risorse che ci sono. Però naturalmente un'idea di questo tipo è assolutamente da appoggiare nei tempi e nei modi possibili. Siccome conosco Venezia, sono monorotaie, non quelle di Fantasilandia, sono filovie guidate da una rotaia in mezzo in metallo. Basterebbe cominciare a parcheggiare e a monticchiare, i parcheggi ci sono, in quantità industriale, fuori dal centro storico e fare 200 metri a piedi che risolveremmo tutto il problema del traffico del centro storico di Monticchiari. Solo che siamo abituati a portare la macchina anche in bagno e per cui è una questione culturale. Benissimo, siamo in chiusura, ringrazio tantissimo, allora Basilio Rodella, vice sindaco di Monticchiari, vuole ricordare il primo degli eventi? Ma sono 70 gli eventi dal 22 di aprile al 31 di maggio. Apertura della mostra in galleria civica sull'editoria in Monteclarense e concerto al Teatro Bonoris con presentazione del libro sulle bellezze di Monticchiari nel Teatro Bonoris. 22 aprile il primo appuntamento. Il 23 è il compleanno però. 23 è il compleanno e i 70 appuntamenti saranno pubblicizzati con una pubblicazione ad hoc distribuita dappertutto, ne faremo migliaia di copie. Benissimo, grazie vice sindaco, grazie.